Sì, sono a ricicolare, siamo in un video, oggi siamo su Mr. Meat, siamo in modalità fantasma Se lui ora non ci può guardare, io sto giusto in modalità fantasma solo per esplorare il luogo Perché ora me lo so scaricato, perciò non è come Creni che mi ha mentito Che ora me lo so scaricato, non mi preoccupate Qua mi ricordo che da qua sono entrato Non mi segui Mr. Meat? Grande Ma io Questo no? Mr. Meat Non mi può vedere Io posso andare Noia raga Ma il martello mi serve Eh, scusate Mr. Meat, ma fai schifo E' peggio di Creni sto cosa Dicono il suo anni che il nipote Io non credo No raga, non penso che il nipote Tutto è stardo del nipote Cioè No Finestra rotta Oddio Oddio Mr. Meat Io non voglio più sentirti Perciò Eh, bravo Scusate Ma solo lattine Scusate Ok Mr. Meat Potrebbe lasciarmi un pochino in pace Grazie Non lo sopporto più Allora Allora Oh ma io Oh ma ne prendo una Che si può aprire Non è come una Creni 2 Oh ma la casa è una Creni 2 Nooo Stavo mangiando Ma tu mangi un pochino Guarda tu che la porta Non posso dirlo Ma tu dentro Cos'è il Dronchissimo 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 Potrei usare Qui no Ma io Ma io Chi è quello Ma che è qua raga Non guardate Io nella realtà Dronchissimo Lo sopporto di tagliare Ve lo giuro Questo raga sarebbe Mr. Meat Tua famiglia Ah Mr. Meat Quando era brutto Mr. Meat Da giovane Paggio tra la nonna No ma io mi metto nel congelatore Fredda 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 Vege raga Mr. Meat mangia solo No raga che schifo Mr. Meat Mangia solo carne Magari ma io mi fico Ma che cosa era Ma che cosa era Si è ammasso No 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 Il rato è tronchese O Tu lo trovi Non è giusto Uso la poppa Ti spara in faccia La prossima volta Mr. Meat Potrebbe essere Ciproosca Perciò Lo trovi Ok Limbo c'è l'uraco qua ti mette con le mani e io rimango qui così e lui sta qua e mi dà tre cinque e sessanta botte in faccia perché non muoio nella terza notte il gioco dice hai tre notte per salvare la ragazza io non ho ancora capito quale ragazzo penso la figlia penso che la figlia ma capace questo figlio la figlia di mister mister non vuoi essere edzo ok se fa troppo rumore ma è peggio di grande questa cosa mi lagga ancora di più io qua sfondato il vetro ma io non riesco a trovare niente porta bloccata io ora vado nel cesso di mister niente riesco a trovare con un rolex or diamante se non funziona manco vuole una tipo con un butello non è una buona cadena no scusa ho trovato di mister niente no non vuoi non vuoi non vuoi non vuoi aprire la proposta ecco è tipo il suo gioco un po' un po' un po' un po' un po' un po' non si vuole maniera non si vuole cadere no questo qua è più difficile di grani Ma io No, se mi faccio ammazzare Cioè non posso Perché sono una verità fantasma Scusate Odio il suo gioco Le pinze Le uso per tagliare le tue unghie Mister Meat Dove stai? Posso tagliare le tue unghie? Mi piace Ok si muore Ma la notte 1 Dice che Mister Meat c'è che c'è qua dentro Mi bellini Ma se puremo il porcellino Mi vede no? Io Sono morto Lello il porcello Dove stai? Io ho detto Dove è andata la notte Fai vedere Porcello Chiuso al porcello Ehi porcellino Mister Meat ti vuole mangiare Fidati Forse non lo so io Ma Mister Meat no? E' un sbrannatore Dice un gale Peggio di non lo so io Peggio di non me Non posso Non posso Invece A meno di qua Dun-dun-dun-dun Diccio l'entr E' troppo noiosa questa cosa, vero, vaga? Ma lo scusco un mito, vaga, che noiosa Enzo, ma passa un po' su volume Del cavolo Lello, 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 Lello Lo chiamerò Lellino Io ho bussato tre volte Raga, sono lei Nooo, che casino Nooo, dai Devo andare nel cesso Questa di qua e non l'ho ancora visto Cesso no, l'avevo visto dall'alto Stava tipo qua Prova Sto qua Che? Perché? Perché? Quando? Un'ora va a scusare Eccoci Vediamo Poi devo fare Dalla cacca Perciò Ne so Sono in prova Si Iiiiiaaa Iiiiiaaa Uff Ehi 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 Una bellissima latina Ehi La bellezza Non faccio più Ma ancora Io guarda le peppine d'ora Sono soldi Veramente Mister Meat Ammi Che figo Voglio Chiave Chiave Non sono amiche suba nel lavoro D'oro Ma questo avevo fatto E ho tirato una chiave Se faccio Così Non si può fare Ehi Ti sei brutto Il peggio di tua sorella Ma ragazzi Ho cominciato Allora Ma guarda che devi fare Per ucciderti Eh Sono modalità fantasmiche Io mi puoi uccidere Ah Quindi come Granny Modalità pratice Sarà una modalità pratice Diciamo No Modalità fantasmiche Eh raga Il video finisce qua Ciao